L'assessore al turismo del comune di Carlentini, Salvatore Allarosa, assieme al sindaco hanno coordinato la riunione di stasera che è naturalmente una riunione dove è stato sottoscritto un manifesto per la richiesta di portare il curus a Lentini e poi per lanciare l'iniziativa del Leontinoe 2021 per i 2750 anni della fondazione della città dell'antica Leontinoe. Assessore, una partenza per rivalorizzare questo territorio? Sicuramente questo deve essere un nuovo rilancio, può rappresentare veramente la prospettiva di poter avere una vetrina così importante nel nostro territorio quale il 2750esimo anniversario, che è l'occasione magari di avere una maggiore risonanza. È la battaglia del curus, è una battaglia che noi vogliamo veramente combattere con tutte le nostre forze perché ne va della dignità e della possibilità di sviluppo del nostro territorio. È impensabile che in questi anni, dopo la ricomposizione, diciamo, della testa e del capo si sia dibattuto su dove potesse alloggiare, se dovesse essere a Catania o piuttosto che a Siracusa senza considerare che è questa la sua casa. Quando noi già nel 2018 abbiamo lanciato la battuta Ucaruso a tornare a casa perché poi questo è il curus e il fanciullo di Leondinoi ed è giusto che torni a Leondinoi. Stiamo lavorando per l'anniversario, come dicevamo nella domanda, del 2750esimo anniversario. Ci sarà una fitta rete di eventi che coinvolgerà le comunità di Carlendini e di Lendini insieme, le due città e il parco. e anzi chiedo a tutte le associazioni di essere vive su questo, a tutte le associazioni del territorio e di avere anche delle idee da proporre al tavolo in modo tale che possiamo fare sempre un calendario più ricco e più fritto di eventi per poter promuovere al massimo il nostro territorio.